ho ho è l'ora della magia ciao ragazzi benvenuti nel nostro magico paese anche oggi con le mie storie vi porterò nell'antica grecia la terra degli dei e degli eroi dovete sapere che anche in quella terra lontana si tenevano i concorsi di bellezza ma con delle miss molto speciali le idee il nostro racconto si apre sul monte olimpo che è in gran festa le porte del palazzo di zeus si sono spalancate per ospitare il matrimonio del re peleo con teti una bellissima ninfa del mare tutti gli idee sono stati invitati e portano agli sposi dei bellissimi regali degli scudi di bronzo cavalli fatati abiti ricamati d'oro e d'argento e l'ambrosia un nettare di cui gli idee sono molto 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 grandi a un certo punto però si vode un boato le porte del palazzo di zeus si spalancano ed entra eris la dea della discordia eris non era stata invitata perché ogni volta che era presente gli dei litigavano si lanciavano tuoni fulmini e saette e un matrimonio non era proprio cosa e giustamente era molto adirata per il mancato invito subito zeus si pone di fronte le dice vattene cosa sei venuta a fare non vedi che qui siamo tutti allegri non è caso che tu rimanga in questo luogo esci immediatamente dal mio palazzo eris obbedì ma decise di vendicarsi prima di andarsene prese una mela d'oro e la gettò sul tavolo proprio di fronte agli sposi su questa mela era scritto kallisti che in greco significa alla più bella la voglio io disse era la regina degli dei la sposa di zeus no sarà mia disse atena la dea della guerra e della saggezza no la più bella sono io disse affrodite la mela aspetta me e iniziarono a a capigliarsi a tirarsi i capelli a strapparsi i vestiti insomma dovette intervenire zeus che infine disse basta sarò io a decidere ci sarà un giudizio la mela verrà data alla più bella ma il giudice non potrà essere un dio perché noi non siamo imparziali dovrà essere un mortale e così le tre dee scesero sulla terra a cercare un giovane puro di cuore trovarono un bellissimo principe paride figlio del re priamo la prima delle idee atena disse figlio di priamo se tu darai la mela a me io farò di te un uomo saggio e ti renderò il più forte e coraggioso di tutti i guerrieri guarda era guarda la sposa di zeus se tu darai la mela a me io ti renderò un re forte ricco e potente e tutta l'asia ubbiderà ai tuoi ordini a questo punto interviene afrodite ma cosa te ne fai della ricchezza cosa ti importa di essere saggio paride tu sei giovane sei bello se darai la mela a me io ti farò conoscere e sposare la donna più bella del mondo e voi cosa avreste fatto al posto di paride un bel ragazzone beh certamente il dono di afrodite era molto allettante e così la mela venne data alla dea dell'amore beh che c'è scommetto che volete sapere se paride conobbe veramente la donna più bella del mondo dovete sapere che qualche tempo dopo fu mandato in missione diplomatica con i suoi fratelli nella lontana sparta e lì conobbe la bellissima elena la moglie del re menelao i due giovani si innamorarono immediatamente decisero di fuggire insieme a troia naturalmente menelao non la prese ha fatto bene e mise insieme velocemente un esercito per rincorrere i due fuggitivi ma questa è un'altra storia nel nostro prossimo racconto vi farò conoscere un eroe molto astuto l'eroe ulisse e scopriremo come attraverso uno stratagemma riuscirà a salvare se stesso i suoi compagni da un terribile mostro con un occhio solo il ciclope polifeno alla prossima e ricordate ragazzi andrà tutto bene